Ciao a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale, io sono Marco e io sono Alessandro Ragazzi siamo tornati, mi raccomando supportateci lasciando un bel like, commentando, scrivendo il video che volete vedere sul nostro canale Mi raccomando ragazzi siamo tornati su YouTube con l'obiettivo di arrivare a 100.000 iscritti Sotto ogni video lasciate qualche commento, qualche consiglio su video futuri Mi raccomando iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace, seguiteci anche sulla nostra pagina di Instagram Mi raccomando e adesso vi lasciamo il video, ciao a tutti Bella ragazzi, io sono Alessandro Freestyler, sono un YouTuber che porta video di calcio e di freestyle In questo periodo collaborerò con Freakissi Italian per cercare di raggiungere i 100.000 iscritti Quindi mi raccomando supportarci, iscrivetevi al canale, mi raccomando E trovo il link in descrizione del mio canale per vedere nuovi video di freestyle e di calcio e anche skill Quindi mi raccomando supportarci al massimo Ciao a tutti 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 Grazie a tutti. 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 I prossimi video che vorreste vedere, iscrivetevi al canale, passate anche sul mio canale in descrizione, iscrivetevi per nuovi aggiornamenti, mi raccomando. Continuate con il supporto, andiamo verso i 60.000 e verso i 100.000 tra un po' di mesi, quindi mi raccomando, continuate con il supporto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella.